Shalom 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 Prima di iniziare questa lezione voglio lodare e adorare il Padre Yehawah nel nome di suo figlio Yehawah Shai e nel nome dello Spirito Santo Rukhah Kodash Questi termini sono i nomi veri nella lingua ebraica antica Per andare avanti vorrei dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Mewstone che mi hanno insegnato questa verità che conosco oggi Il titolo di questa lezione sarebbe Maria, madre di Yehawah Shai, così chiamato Gesù non era vergine Bene, inizio leggendo dal libro dell'Evangelo di Matteo, capitolo 1 e leggo dal versetto 8, 18 Il versetto 18 si trova qui e inizio a leggere Alla nascita di Yehawah Shai avvene in questo modo Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe E prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo Allora, vorrei spiegare intanto questo versetto Bisogna capire comunque come funzionava a quell'epoca nella tradizione ebraica Nella tradizione ebraica la cerimonia dello sposo si faceva la notte stessa in cui il marito, l'uomo e la donna facevano il sesso insieme Avveneva così Sì, la gente si univa C'era un po' di cerimonia, celebrazione Un po' di canti, un po' di riconoscimenti tra le famiglie E poi I sposi andavano dentro una stanza Di qui Andavano su un letto Di qui su questo letto Viene messo una lenzuola bianca Ok? Loro facevano Si riconoscevano Quella prima sera là facendo il sesso Come viene fatto tra L'uomo normale e una donna Per avere fili Ok? Il sangue che viene fuori dalla donna Perché a quell'epoca era tabù Che una donna non fossero vergine Prima di essere sposata Perciò andava anche contro la religione ebraica Le donne dovevano rimanere Casti Ok? Fino al matrimonio Dovevano osservare la legge di castità Fino al matrimonio Ok? Perciò Loro si facevano il sesso E il sangue che veniva fuori dalla donna Ok? Spargeva sulla lenzuola bianca E questa lenzuola bianca Viene data Alla madre Della sposa Ok? Questo era Era Una sorta di riconoscimento Una sorta di certificato che La sua figlia era vergine Ok? E veneva da una famiglia solida Allora in questo versetto Si vede che Maria era già promessa Era già stata promessa La sposa promessa a Giuseppe Ok? Perciò Erano già promessi Ma cosa è successo? Giuseppe e Maria Se la facevano già Prima Di essere Prima di quella notte Della cerimonia Ok? E intanto salto Questa parte che parla Ok? Si trovò incinta per virtù Dello Spirito Santo Che Non è proprio così Ok? Lo Spirito Santo Non c'entrava nulla In questa roba qua Ok? Continuo leggendo Continuo leggendo Continuo leggendo Ok? Anzi Continuo leggendo Ok? Da versetto 19 Da qua Da qui E Giuseppe Suo marito Essendo Uomo giusto E non volendo Esporla Ad infamia Si propose Di lasciarla Allora Qui Ricordiamoci Comunque La legge Dei ebrei Ok? Adesso Ok? Ricordiamoci Della legge Dei ebrei Che Chiunque 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 Metteva incinta Una 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 ragazza O una fanciulla Ok? Senza Il consenso Ok? Di matrimonio Ok? Tra le famiglie Ok? C'era La Penalizzazione Per questo Per questa cosa Qua C'era la Penalizzazione Ma Giuseppe Essendo Uomo giusto Ok? Non si La sentiva Non si Sentiva Non voleva Che arrivarsi Quella sera La Che Entreranno Nella Camera E non Si vedrà Il sangue E questa Cosa Lo disturbava Lo perturbava Tanto Ok? Intanto Se Giuseppe Fosse Un uomo Giusto E vede Che La Maria E' Incinta Ok? E se Lui Non ha Avuto Nulla Che fare Con La Maria Di Sesso Questa Cosa Sarebbe Adultero Ok? E lui Essendo Un uomo Giusto La penalizzazione E la Morte Vuol dire Che Lei E' Una Adultera Ok? Guardando La legge Di Mosè Perciò Qui si Vede Già Che Giuseppe Essendo Giusto Lui Sa Quello Che Aveva Già Fatto Ok? Continuiamo A leggere Giuseppe Giuseppe Suo Marito Essendo Uomo Giusto E Non Volendo Esporla Ad Infamia Si Propose Di Lasciarla Occultamente Ok? Ma Mentre Aveva Queste Cose Nell'animo Ecco Che Un Angelo Del Signore Iahua Gli Apparva In Sogno Dicendo Giuseppe Filuol Di Davide Non Temere Di Prendere Te Con Maria Tua Moglie Perché Ciò Che In Lei È Generato È Dallo Spirito Santo Perciò Gli Apparso Questo Angelo Che L'ha Confortato Che Non Preoccuparti Di Quello Che Hai Fatto Ok? Non Preoccuparti Di Quello Che Hai Fatto L'hai Messo Incinta Ma Non Preoccuparti Della Cerimonia Che Tutti Sanno Che Sei Un Uomo Giusto Allora Andrai In Letto E Non Avrai Niente Di Prova A Che Vuoi Provare Sì Attraverso Il Sangue Che Lei Era Una Vergine Ma Lui Sapeva Che Lei Era Vergine Ecco Lui Non Non Voleva Espor La D'infamia Spero Che State Capendo Dallo Spirito Santo Della Rukka Kodash Questa Cosa È Molto Molto Importante Da Capire Ok Vado Oltre A Leggere Dal Versetto 21 Che È Qua Ed È La Partorirà Un Filuol E Tu Li Porrai Nome Yahawashai Ok Se Video Precedente Su Questo Canale Riuscite A Vedere Come Nome Vero Yahawashai È Stato Cambiato A Gesù Ne Ho Fatto Altri Video Quindi Se Volete Conoscere Questa Questa Cosa Qua Tornate Nel Mio Canale A Guardare Altri Video Ok Continua A Leggere Perché È Lui Che Salverà Il Suo Popolo Dai Loro Peccati Ok Qui C'è C'è L'angelo Del Signore Yahawashai Ok Che è apparso a lui Che l'ha spiegato Tutte queste cose qua E andiamo in più Andiamo a leggere Dal versetto 22 O Tutto ciò Avvene affinché Si adempiesse Quello Che era Stato Detto Dal Signore Per mezzo Del Profeta Ok Questa Cosa Si troverà Si trova In Isaia Che Poi Andremo A Leggere Ecco Qua È Dove C'è Il Problema Dove La Gente Crede Molto A Questa Filosofia Sbagliata Di Maria Essendo Una Vergine Ok Continua Leggendo Dal versetto 23 Ecco La vergine Sarà Incinta E Partorirà Un Figliolo Al Quale Sarà Posto Nome Emanuele Che Interpretato Vuol Dire Il Dio Con Noi Ok E Giuseppe Destato Destato Dal Sono Fece Come L'angelo Del Signore Li Avea Comandato E Prese Con Sè Sua Moglie E Non La Con Nobe Finchè Ella Non Ebbe Partorito Un Figlio E Li Pose Nome Yahawashai Ok Lui Dopo Si è Svegliato Dal Sogno Dal Sogno E Ha Fatto Proprio Come Ha Detto La L'ha Istruito L'angelo Del Signore E Lui Non Ha Più Fatto Sesso Con La Sua Moglie Fino Che Ha Patorito Il Figlio Ok E La Spiegazione Del Versetto 25 Qua Lui Non Ha Più Fatto Sesso Con Lei Fino Al Giorno Che Ha Patorito Il Figlio Ora Per Darvi Le prove Di questi Versetti Andiamo Ora A leggere Da Isaia Dal libro Di Isaia Che Questa è La profezia Che diceva L'angelo Si trova In Isaia Capitolo 7 E Dal versetto 14 Che È Qua Ecco Qua Dove C'è La Rotondina Ok Leggiamo Dal versetto 14 Perciò Il Signore Yahawa Stesso Vi darà Un segno Ecco La Giovane Concepirà Avete Visto Là Non c'è Nulla Non c'è Scritto Vergine La Giovane Concepirà Patorirà Un Figliuolo E Gli Porrà Nome Emanuele La Avete Già Visto Che La Parola Vergine Non c'è Se Leggete Altre Versioni Delle Scritture Soprattutto Quelli In Inglese Questa Parola Giovane Sulle Prime Versioni Delle Scritture C'era La Parola Si C'era Questa Parola Qua Allora Avevo Messo A Parte Ecco Questa È La Scrittura Proprio Nella Sua Versione Ebraica Ok E La Parola La È Marasat Ok Che Vuol dire Proprio Quello Che C'è Scritto Nella Scrittura Italiana Betroth Ok Giovani Una Donna Giovani Ok Una Donna Giovani Ok Questo È Sempre La Scrittura La Ok E se Guardate Qua Questo È La Latin Vulget Ok La Versione Latina Prima Che è Stato Prima Che è Stato Poi È Un Tradotto In Italiano Avete Visto Il Versetto 18 La Diceva La Parola Desposada Desposada Ok Desposada Che Vuol dire Che Vuol dire Desposada Che Vuol dire Una Giovani Una Donna Giovani Una Fanciulla Ok Sarebbe La Parola Giusta Perciò Qui Avete Visto La Profezia Di Isaia Che Dice Ok In Versetto 14 Signore Stesso Vi Darà Un Segno Ecco La Giovani La Giovani La Giovani Avete Visto Qua Quindi La Parola Vergine Non Esiste Ok Andiamo Avanti Vi Tiro Fuori Un Altro Precetto Dai Al Libro Di Romani Romani Ok Epistolo Di Romani Capitolo 1 Versetto 3 Che è Qua Ok Che dice E che Concerne Il suo Figliuolo Nato Dal Seme Di Davide Secondo La Carne Dichiarato Figliuolo Di Dio Yahawa Con Potenza Secondo Lo Spirito Di Santità Mediante La Sua Riserazione Dai Morti Cioè Yahawashai Il Messia Nostro Signore Avete Visto La Parola Chiave Qua È Nato Dal Seme Di Davide Secondo La Carne Qua Quando Si Parla Della Parola Seme Se Andate Nella Radice Di Questa Parola Nella Sua Forma Greca È Greca Ok La Vedete Che Sta Parlando Di Sperma Sperma Ok Quando Venite A Vedere Questa Parola Seme Vuol dire Sperma Ok E Come Fa Ad Essere I Semi Come Fa Non Essere Seme Di Davide Se La Gente Crede Che La Maria È Stata Messa Incinta Dallo Spirito Santo Questo È Blasfemo È Blasfemo Perché Questa Scrittura Qua Fa Sempre Capire Lo stesso Che È Nato Dal Seme Di Davide Secondo La Carne Vedete Vedete Qua Filuoli Di Giacobbe Apritevi Gli occhi Che Queste Filosofie Che Spinge La Chiesa È Sbagliatissima E Poi Vi Farò Vedere Da Dove Proviene Tutta Questa Filosofia Qua Ma Prima Vorrei Darvi Altri Punti Altri Motivi Per Credere A Questa Verità Che Maria Non Era Vergine Andiamo A Leggere Dall'epistolo Di Matteo Capitolo 22 Versetto 30 Ok Che Si Trova Qui Perché Alla Risurrezione Né Si Prende Né Si Dà Muglie Ma I Risotti Sono Come Angeli Angeline Cieli Allora Per Capire Questa Sì La Parola Chiave Di Questo Versetto Perché Alla Risurrezione Non Si Prende Ok Mole Muglie Non Si Sposa Ok Ma I Risotti Sono Come Dei Angeli Ok I Angeli Non Sposano I Angeli Non Fanno Fili Come Noi Uomini Sono Cose Da Uomini E Se Leggete Ancora Prima Di Questo Versetto Erano Era Una Domanda Fatta A Yahawashai Che Una Donna Che Ha Avuto Sette Mariti Che Uno Moriva Dopo L'altro Dopo La Sua Morte Quale Sarebbe Il Suo Marito Yahawashai Le Risponde Dicendo Che Dopo La Morte Lo Spirito Torna Al Creatore Ok Il Corpo Rimane Qua E Diventa Terra Lo Spirito Torna Al Creatore In Quest'atto Lo Spirito E Come E Come La Forma Degli Angeli Ok In Quest'atto Là Non Si Può Fare Figli Ok Non Si Può Non Si Può Fare Sesso Perciò Non Andiamo A Contradire Quella Che È La Verità Un'altra Prova Andiamo A Leggere Dal Libro Di Apocalisse Capitolo 22 E Versetto 16 Che è Qui Ok Versetto 16 Dice Io Yahweh Ho Mandato Il Mio Angelo Per Attestarvi Queste Cose In Seno Alle Chiese Ok Questo È Della Parola È Della Bocca Proprio Del Messia Yahweh Shai E Così Chiamato Gesù E Lui Dice Proprio Che Ho Mandato Il Mio Angelo Per Attestarvi Queste Cose In Seno Alle Chiese Io Io Sono La Radice La Radice La Progene Di Davide La Lucente Stella Mattutina Ok Qua Vedete La Parola Chiave Io Sono La Radice E La Progene Di Davide E Come È Possibile Questa Cosa Qua Se Andiate Se Torniamo A Leggere Il Libro Di Matteo La Primo Capitolo Vedete La Sua Gineologia Ok La Gineologia Di Jehovah Shai Ok Il Messia Filuolo Di Davide Filuolo Di Abramo E Qua Si Spiega Come Abramo Genero Isacco Isacco Genero Giacobbe Giacobbe Genero Giuda E Suoi Fratelli Giuda Genero Fares Zara Datama Fares Genero Ezrom Ezrom Genero Aram Ok Andrò Avanti Voglio Saltare Arrivare Ok Qua Fino Qua Salmon Genero Buz Darahab Buz Genero Obed Darut Obed Genero Lese E Lese Genero Davide Il Re E Davide Genero Salomone Da Quella Che È Stata Moglia Di Uria Salomone Genero Roboama Roboamo Genero Abia Abia Genero Aza Aza Genero Jeosafat Jeosafat Genero Loram Loram Genero Uzia Uzia Genero Luatam Luatam Genero Bachaz Achaz Genero Ezechia Ezechia Genero Manases Manases Genero Amun Amun Genero Josia Josia Genero Leconia Leconia I suoi fratelli Al tempo Della deportazione In Babilonia E dopo la deportazione In Babilonia Leconia Genero Salatia Salatia Genero Zorubabai Zorubabai Genero Abiud Abiud Genero Eliakim Eliakim Genero Azor Agjo Genero Sadok Sadok Genero Achim Achim Genero Eliud Eliud Genero 28 29 39